eccolo questo invece è Astoriux con la X finale del fratello di Zio Rosas questo è più leggero però eh sì sì sono due due cavalli un po diversi Astoriux ha quattro anni sì perché lui verrà presentato bellino eh sì molto molto come tu lo senti questo vivo ma carlino maneggevole insomma eh così promette bene poi va visto quando è in azione beh quello sempre però però c'ha un bel carattere il modello anche bellino eh sì sì è un cavallino elegante eh Astoriux benissimo ok facciamola fuori anche Astoriux a presto